il mio nome è riccardo il mio cognome è riccardo e martino il mio cognome è martino nel ruolo del portiere fatto di giocare in porta perché ho visto buffon che era un gran portiere e della della mia squadra bella parata che ha fatto a chianciano una palla sul 7 l'ho presa l'ho respinta e poi hanno ritirato e l'ho bloccata così mister ha detto che sono stato bravissimo e devo fare ancora ancora meglio e quando ho fatto quella parata i miei compagni sono tutti venuti a abbracciarmi ma tu sei un pararigori delle volte la tecnica per parare i rigori è guardare il piede e come mette il piede merino il il tiratore quanti ne pari le caratteristiche di un portiere sono che deve essere concentrato deve guardare sempre l'azione che si svolge e si deve allenare la tecnica della cosa perfetta è così oppure così grande grande vai perché oggi no oggi ci hanno insegnato ha detto così e trova meglio così è cosa lo dire lo 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 lo